Grazie a tutti. Ne vorremmo sentire un paio perché questa è assolutamente una novità anche per la confluenza delle unioni democratici in questa lista. Numero uno la professoressa Rosanna Di Berardino. Quali sono i programmi e quali sono i suoi impegni per la città di Giulianova? Sì, io ho aderito a questo invito perché appunto il programma del Presidente mi è parso veramente valido in quanto proprio sposa alcune delle idee che sono nella mia quotidianità. Anzitutto il mio lavoro, io sono un'insegnante specializzata ovvero opero con il mondo dei disabili e la provincia di Teramo ha da sempre veramente attuate tante tante strategie a supporto di una categoria tanto svantaggiata. Inoltre per la scuola, per la scuola in cui opero, la provincia si è adoperata tantissimo. È stato costruito inizialmente un primo lotto, poi successivamente il secondo lotto. Adesso per completare quest'opera veramente faraonica è necessario che si trovi un accordo tra la provincia e il comune di Giulianova per costruire il terzo lotto che prevede anche un palacetto dello sport per favorire tutti i giovani e per completare appunto in quanto alla scuola manca la palestra che è necessaria per gli alunni, manca tutta una zona degli uffici che naturalmente vedrebbe veramente completata quest'opera anche in vista dell'autonomia che dovrebbe andare in porto a settembre, primo settembre del 2009. Poi non solo questo, anche l'obiettivo del lavoro è stato proprio il punto cardine perché operando nella scuola io ritengo che ai giovani bisogna dare delle prospettive certe. Il programma dopo prevede tante altre cose interessanti che per Giulianova, per i giovani, per il mondo della scuola sono veramente veramente valide. Grazie